Io sono Assunta Scappaticci, faccio l'avvocato e gestisco lo sportello legale nel comune di Santo Padre ed insieme al collega gestisco anche lo sportello legale nel comune di Roccasecca. In questi giorni in cui noi ci siamo trovati ad affrontare varie problematiche, principalmente abbiamo ricevuto utenti che avevano problemi con il servizio idrico, in particolare con la società che gestisce il servizio idrico qui in provincia e quindi con l'Acea e noi abbiamo cercato di risolvere per quanto possibile queste problematiche attraverso una conciliazione, quindi cercando proprio attraverso la collaborazione con il gestore di risolvere le problematiche degli utenti che si rivolgono a noi. Noi insomma cercheremo di fornire per quanto possibile le soluzioni a tutte le problematiche che verranno prospettate e che ci verranno proposte nei nostri sportelli in cui siamo presenti. E Assunta, quali criticità ci stanno nel territorio? Allora, principalmente per quanto riguarda quelle che ho affrontato, riguardano proprio Acea, anche però ci sono utenti che lamentano problematiche sempre regate a bollette di altri gestori non necessariamente idrici, pensiamo anche all'Eni, anche all'Enel o anche in alcuni casi Telecom. Come ti sei avvicinata a Consumer? Allora, diciamo un po' così, casualmente ho conosciuto il coordinatore Gianni e quindi tramite lui che sono arrivata all'associazione e quindi anche ho avuto modo poi di conoscere tutta questa grande famiglia, tra virgolette. Benissimo, grazie e benvenuta. Grazie a voi, grazie.